Noi eravamo in vacanza qua a Sanremo, però l'idea è venuta già prima quando eravamo nel lockdown, ci mancava il mare tantissimo, abbiamo detto che dobbiamo fare qualcosa molto divertente ma anche carino per i bambini. Perché a Sanremo? Perché ci è piaciuto stare qua anche l'anno scorso e abbiamo deciso che facciamo la canzone a Sanremo, il posto che piace di più a Amelie. Girando un pochino a casa ho un pochino l'idea di Amelie, un pochino l'idea di mamma e papà, tutto insieme è venuta la canzone. Immagini girato papà. Girato papà è stata storia divertente perché siamo arrivati con tutta attrezzatura, videocamera, si sono bagnati con le onde del mare, alla fine dovevamo registrarlo con un semplice telefono perché le videocamere non partivano per una settimana e niente, poi comunque è venuto. Nonostante diciamo piccole cose che ci davano sempre problemi, la canzoncina è venuta e secondo me è venuta carino visto che è arrivata a tutte queste visualizzazioni. Lei ormai è già la bambina che registra video per tre anni e adesso ultimo anno cominciate a cantare, c'è anche un'altra sua canzoncina che ha abbastanza tante visualizzazioni però diciamo adesso canzone per il mare si vede che mancava tanti per il fattore di lockdown e tutto. Raccontaci un po', ti è piaciuta Sanremo? Sì, tantissimo. Ci vuoi tornare? Sì. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più di Sanremo? L'acqua. Senti, tu che canti così bene ci andrai un primo o poi a cantare all'Ariston durante il festival? Sì. Possiamo solo che dire grazie, prima di tutto ai signori Popovici per aver scelto Sanremo per essere venuti qua, per aver trascorso il loro tempo e le loro vacanze nella nostra città e grazie veramente di cuore ad Amelie per averci reso partecipi di questo successo perché fondamentalmente vedere un video così visualizzato sui social è tanta roba, bisogna riflettere anche su queste cose e effettivamente pensare un attimino come si può promuovere meglio il nome di Sanremo e la città di Sanremo. Andrea Di Baldassare è uno degli attori di questa interessante iniziativa che a livello commerciale vede come? Più che io l'attore è mia figlia perché io ho conosciuto Amelie Grazia, mia figlia di quattro anni, che sentivo che cantava la canzone di Sanremo in casa. nel momento in cui sentivo questa canzone con curiosità sono andato a vedere. Quando ho visto questo video mi sono subito e ho visto il numero che faceva perché erano 7 milioni di visualizzazioni e ad oggi sono già 9, ho subito chiamato il nostro assessore al turismo che nel giro di un'ora aveva già organizzato il tutto per la promozione della città perché è comunque un messaggio importante. Noi dobbiamo immaginare quanti papà o quante mamme ci sono, parliamo di 9 milioni di famiglie praticamente, che si sentono magari in casa a cantare Sanremo. Quanta è di promozione questo? Come giustamente diceva l'assessore, il sindaco per noi è stato un messaggio importante ed è un messaggio importante per la città. Grazie.